Po-patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto in fretta, c'è un doppio problema sotto la città. Danny X ha perso il controllo del razzo e Rotelle non riesce a spegnere i pattini. Rotelle, e chi è? La signorina Marjorie, era il suo soprannome quando era campionessa di pattinaggio. Per questa missione mi servirà Chase la spia! Ci pensa Chase la super spia! E avrò bisogno anche di Marshall! Non aspettavo altro! Bene, al lavoro, Po-patrol! Meno male che siete qui! Non vediamo Danny e la signorina Marjorie da quando sono scesi nelle gallerie! Chase, devi trovare quei pattinatori in fuga! Immediatamente, Ryder! Drone! Andiamo troppo veloci! Non riesco a fermarmi! Tieni duro e dammi il mio maglione! Cardigan attivato! Stanno arrivando! Marshall, Chase, dovete oltrepassare la rampa e fermarli! Stupenda! Che forza! Che forza! Ops! Oh, rete! Oh, quindi era lì il bottone per spegnerli! Grazie! Grazie, Po-patrol! È stata un'esperienza che non voglio mai più provare in vita mia! Non c'è di che, Danny! Ogni volta che devi fermare un razzo, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-patrol su Nickelodeon!